ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video tutorial in collaborazione con youplacraft questa volta ho deciso di realizzare una bustina porta foto in realtà non ho messo solo delle foto e ora vi faccio vedere intanto l'ho dedicata ai ricordi invernali come potete vedere qui ho utilizzato le scritte dei legnetti appunto le scritte invernali di youplacraft e qui invece ho inserito una tazzina della serie prisma sono delle tazzine in acrilico di diversi colori e io ho scelto appunto quella rosa mi piaceva molto all'interno un'altra scrittina che ricorda un po l'inverno e poi delle schede delle schede dove ho pensato di inserire un quadernino per degli appunti qua lo spazio per una foto 8x8 qua altre foto qui un'altra foto e poi perché no una bella tisana calda che magari possiamo bere mentre osserviamo e guardiamo le nostre foto questo è il progettino adesso non vi resta altro che andare e correre subito a vedere il video tutorial per poterlo realizzare mi raccomando sono sicura che farete tante cose belle ciao a presto e al prossimo video tutorial ciao 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 ciao